Sono delle Jimmy Choo che ho messo al Red Carpet a Venezia. Cosa dice MTV? Ti piace allora? È arrivato finalmente il momento che stavi aspettando. Ti porto nella mia cabina armadio. Questo è il mio regno. Praticamente la grandezza di un campo da basket. In questa prima parte ci sono tutte le mie sneakers. Insomma, da come sono vestita avrei capito che mi piace molto questo stile. Queste sneakers le ho prese all'estero, in America, in Spagna, in Francia durante alcuni viaggi. Qualcuno dice, ma te le metti tutte quelle scarpe? Sì, me le metto perché sono una che ama vestire colorato e in base, insomma, come sono vestita anche felpe e accessori, le cambio molto e le metto tutte spesso. Si intuisce che alcune delle mie scarpe preferite siano le Jordan 1, infatti le ho in diverse colorazioni e questa è stata la prima che ho comprato nel 2012. Ce l'ho anche tatuata, tra l'altro, quindi è proprio la mia preferita. Queste qui, per esempio, sono parecchie usate perché ci ho fatto un anno di campionato. Ho avuto un brutto infortunio con queste scarpe. effettivamente per giocare non sono adatte perché hanno questa parte della caviglia molto morbida e quando tu atterri dopo un rimbalzo, se metti il piede male, vai giù, che è quello che mi è successo. In questo lato della cabina armadio ci sono tutte le giacche, blazer, giubbotti di pelle. Ti faccio vedere le mie due preferite, che sono questa e questa. Diciamo che non sono proprio del tutto sobrie e questo giaccone qua io lo amo. Sarà che mi piacciono le paillettes, le cose brillantose. Anzi, adesso me lo metto che ti faccio vedere come mi sta. Cosa dice MTV? Ti piace allora? Ma è casa rifrangente. Basta con lo sport, le sneakers, l'urban. Andiamo a vedere un po' i tacchi a spillo e le paillettes. Vieni. MTV, ho cambiato look perché ti faccio vedere l'altra parte della cabina armadio che poi non è nient'altro che l'altra parte di me. Partiamo subito qua sulla destra perché siamo in tema paillettes. Qui ci sono tutti i miei abiti lunghi. Qualcuno di questi l'ho usato per occasioni importanti come red carpet. Questo per esempio mi piace un sacco. È tutto aderente a sirena, la schiena completamente nuda, fino quasi al sedere dove ho questo fiocco. addosso è veramente una figata. Questo semplice, però il verde è uno dei miei colori preferiti. D'estate con la bronzatura è pazzesco. Questi due sono i miei scaffali dei sogni con tutte le mie scarpe col tacco. Voglio farti vedere queste, che sono delle Jimmy Choo che ho messo al red carpet a Venezia lo scorso anno. Sono stupende, sembrano le scarpe di Cenerentola, io le adoro. Io adoro le borse, adoro gli accessori. Anche qua le ho divise in modo da poterle riconoscere tramite il colore. Che cosa potrei abbinare al vestito che ho adesso? Essendo un vestito molto carico di colore, di paillettes, eccetera, ci metterei una cosa abbastanza semplice. Questa. Tra l'altro queste minsole per le borse sono proprio fatte apposta per me, perché una ragazza normale, con un'altezza normale, là sopra non ci arriverebbe. Ci vorrebbe tipo la scala per saltare. Come sto? Ti piace o no? Nero con nero, dai, ci sta. La borsa più particolare che ho fra tutte queste, lei, è fatta a forma di palla da basket. Posso dire che sia abbastanza unica. Il vestito è bellissimo, ma il giro è ancora lungo. Vuoi rimetterti in abiti più comodi? Vuoi rimetterte che dal